ciao a tutti e bentornati sul mio canale amante gdt quest'oggi vi andrò a presentare il tutorial di five words il gioco che vediamo qui alle mie spalle è un gioco per 25 giocatori consigliato dai 13 anni in su è una partita una durata media di 60 minuti in questo gioco faremo parte di una gang all'interno di una città che suddivisa in cinque quartieri il nostro scopo sarà ovviamente quella di cercare di conquistare con i nostri scagnozzi più quartieri possibili in questo video vi andrò a mostrare il setup e le regole di gioco nel caso foste interessati all'acquisto di questo gioco lo potete trovare sul sito di ls giochi lascio il link in descrizione e non dimenticatevi di inserire il mio codice promozionale amante 10 per ottenere il 10 per cento di sconto quindi approfittate ora però non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere subito il video tutorial setup di gioco come prima cosa posizioniamo il tabellone al centro dell'area di gioco dopodiché prendiamo le nove tessere punteggio sono queste qui nella scatola ce ne sono nove ne estraiamo cinque a caso e ne andiamo a posizionare una per ogni quartiere del tabellone di gioco infatti abbiamo come potete vedere cinque quartieri in una partita due giocatori come l'esempio del tutorial che vi andrò a mostrare dove ci sono tessere che hanno da un lato due puntini le posizioniamo con quel lato rivolto verso di noi come possiamo vedere l'altro lato non presenta i due puntini dopodiché ogni giocatore sceglie un colore e il relativo gang la relativa banda di questo colore andrà a prendere la sua plancettina e il suo sacchetto con i segnalini scagnozzo all'interno prenderà poi tre segnalini di questi e li andrà a posizionare in questi spazi bianchi della propria plancia infatti questi segnalini fungeranno sia da risorse quando posizionate sulla propria plancia che da scagnozzi quando invece li andremo a posizionare sulla plancia di gioco prendiamo poi il mazzo di carte landmarks che io chiamerò carte luogo per comodità e come potete vedere adesso sono due mazzi ma è un mazzo unico per il setup dovremo andare a formare due mazzi formati in questa maniera prenderemo 13 carte ovviamente a caso di queste carte qui queste carte luogo e 5 carte di queste carte rissa infatti nella scatola sono presenti 30 carte così e 6 carte rissa quindi avremo questo mazzo come detto di 13 carte luogo e 5 rissa lo andremo a mescolare e lo posizioneremo in questa zona del tabellone di gioco le restanti carte le andremo a mescolare anche se quindi ci sarà solo una carta rissa qui all'interno e lo posizioneremo al lato del tabellone di gioco in quanto potrebbe servirci a fine partita prendiamo poi dal mazzo che abbiamo posizionato sul tabellone di gioco 5 carte peschiamo le prime 5 carte e le andiamo a posizionare in questi spazi del tabellone di gioco come potete vedere possono uscire sia carte luogo io come detto le chiamerò così e carte rissa prendiamo poi il mazzo di carte tattica che questo mazzo di carte qui lo andiamo a mescolare e distribuiamo 4 carte per ogni giocatore il restante mazzo lo posizioniamo in questa zona qui del tabellone di gioco a formare un mazzo di pesca queste carte ovviamente possono essere guardate dal relativo giocatore ma devono rimanere segrete al suo avversario a questo punto andiamo a prendere le tessere reclutamento che sono queste tessere qui le andiamo a mescolare le posizioniamo accanto al tabellone di gioco con il lato dell'elmetto rivolto verso l'alto prendiamo anche il sacchettino con i segnalini poliziotto e le andiamo andiamo anch'esso a posizionarlo al lato del tabellone di gioco poi prendiamo le tessere reclutamento e le andiamo a posizionare scoperte per ogni luogo sono questi spazi qui al di sotto delle carte in questa maniera poi giriamo una carta tattica che posizioniamo immediatamente nella zona degli scarti che questa zona qui e in base al numero che troviamo qui in alto a destra quindi in questo caso il 4 andiamo a girare la tessere reclutamento di quello spazio lì in maniera da determinare la posizione dell'ispettore ovviamente ve la spiegherò successivamente e come ultime fasi del setup di gioco prendiamo un numero di dadi pari al doppio dei giocatori più due quindi in questo caso siamo in due giocatori il doppio ne andremo a prendere quattro più due sei dadi totali prendiamo poi il segnalino primo giocatore che questo cappello qui lo diamo scelto casualmente al primo giocatore insieme ai dadi a questo punto il setup è terminato vediamo come si gioca una partita una partita verrà giocata fino a che non terminerà il primo mazzo di carte luogo questo qui che abbiamo formato a inizio setup a quel punto si innescherà la fine della partita e si passerà poi al conteggio dei punti finali vediamo però ogni round come è strutturato ogni round è composto da quattro fasi nella prima fase il primo giocatore quindi quello con il cappello andrà per prima cosa a lanciare tutti i dadi dopodiché ogni giocatore in ordine di turno andrà a scegliere svolgerà due turni quindi andrà a scegliere due dadi ma uno alla volta in che maniera però sceglierà prima un dado il primo giocatore svolgerà il suo turno poi ne sceglierà uno il secondo giocatore a questo punto ne sceglierà un altro il secondo giocatore e poi di nuovo il primo giocatore quindi se fossimo stati in più giocatori sceglieva il primo il secondo il terzo poi di nuovo il terzo il secondo e il primo ci saranno quindi sempre dei dadi che non verranno scelti che avanzeranno proprio per dare più possibilità di scelta a ogni giocatore vediamo dunque nel dettaglio come si svolge la prima fase quindi ogni volta che andiamo a prendere un dado cosa facciamo allora torniamo all'esempio di gioco in cui il primo giocatore ha lanciato i dadi a questo punto va a scegliere un dado quando sceglie un dado poi può svolgere una tra queste due azioni o radunare che sarebbe quella in cui andiamo a posizionare uno scagnozzo in una carta luogo le carte luogo come avevo mostrato sono queste qui come potete vedere le carte luogo hanno delle icone sopra che rappresentano semplicemente le icone che possono uscire dei dadi quindi quando io decido di radunare vado a prendere un dado che corrisponde a un'icona di una carta in cui io voglio andare a posizionare il mio scagnozzo e semplicemente li vado a posizionare un gettone sopra quindi in questo esempio se io prendo il dado con l'icona qui del whisky della bottiglia lo prendo lo posiziono davanti a me e successivamente vado a posizionare il mio segnalino scagnozzo su un simbolo appunto a mia scelta se ce n'è di più delle carte luogo ci sono inoltre degli spazi bonus in queste carte luogo come potete vedere oltre alle icone a volte ci sono questi spazi qui con last all e vediamo se la trovo subito anche la carta con first eccola qui cosa vuol dire quando io vado a posizionare un mio segnalino scagnozzo in una di queste carte facciamo l'esempio che ci fosse stata questa carta qui e queste qui prendiamo queste carte di esempio quando c'è lo spazio bonus first se io sono il primo giocatore torniamo quindi all'esempio in cui tocca a me e devo scegliere un dado se io sono il primo giocatore che si va a posizionare in quella carta quindi per esempio prendo questo dado con il segno del topo e mi posiziono qui in questo spazio automaticamente avrò uno spazio bonus in cui andrò gratuitamente a posizionare un altro mio scagnozzo invece nella carta last lo andrò a posizionare questo scagnozzo bonus se sono l'ultimo giocatore ad aver posizionato il i miei scagnozzi su questa carta quindi se per esempio io mi ero posizionato giocando in questa maniera arriva poi il giocatore verde che con il dado riesce a posizionarsi qui essendo stato l'ultimo quindi ha completato questa carta non ci sono più spazi andrà a posizionare lui il suo segnalino sullo spazio last per quanto riguarda invece lo spazio all come possiamo vedere oltre la scritta all ha anche una barra con poi un puntino nero cosa vuol dire che se solo un giocatore completa tutta questa carta quindi posiziona tutti i suoi segnalini in questi tre spazi allora avrà anche il gettone bonus dove si andrà a posizionare qui ma se più giocatori invece riempiranno questa carta quindi per esempio un rosso e due verdi oppure viceversa ovviamente quindi questa carta è contesa a quel punto si va a posizionare un poliziotto dopo avervi quindi mostrato la funzione delle carte luogo che era essenziale torniamo però alla prima fase di gioco durante questa fase io posso giocare anche carte tattica dalla mia mano infatti ci sono sei tipi di carte tattica cioè sei azioni che mi possono che mi permettono di svolgere queste tarte queste carte tattica ve le vado a mostrare subito una ad una abbiamo la carta vagabondo in cui posso andare a inizio o fine turno posso andare a spostare un mio gettone scagnozzo in un luogo quindi in una carta luogo adiacente che non sia ovviamente uno spazio bonus quindi per esempio se io a inizio fine turno gioco questa carta che quindi andrò a scartare posso spostare un mio segnalino in una carta adiacente quando mi trovo in queste carte qui nel luogo 1 o 5 risultano adiacenti l'1 e il 5 e il 5 e l'1 quindi se io per esempio sono rosso appunto e gioco questa carta vagabondo non da uno spazio bonus posso andarmi a spostare risulta adiacente il luogo 5 abbiamo poi la carta complice in cui posso andare a posizionare un mio scagnozzo su uno spazio aggiuntivo che corrisponde all'icona del dado che avevo scelto quindi per esempio scarto questa carta qui e se io avevo scelto durante il turno in cui vado a giocare quella carta per esempio i tre puntini mi vado a posizionare qui giocando questa carta posso andarmi a posizionare in uno spazio a mia scelta che abbia la stessa icona questa carta qui invece carta gambler mi permette di andare a ritirare i dadi che ancora non sono stati selezionati quindi ovviamente a inizio del mio turno se per esempio ci troviamo in questa situazione qui il primo giocatore il verde sceglie questo dado io giocando questa carta quindi scartandola posso andare a ritirare i dadi che sono rimasti e quindi a quel punto scegliere il dado troviamo poi la carta ladro in cui a inizio del mio turno scartandola quindi giocandola posso andare a rubare un dado del mio avversario che ha già selezionato quindi per esempio gli prendo questo suo dado diventa mio mi vado a posizionare sull'icona del topo e l'ultimo tipo di carta che si ha a disposizione nel mazzo di carte tattica è il falsario questa la inizio la gioco sempre anche qui a inizio turno dopo che ho scelto un dado posso andargli a cambiare la sua faccia con quella che voglio dimenticavo l'ultimo tipo di carta che è quella champion campione questa carta qui mi permette di utilizzarla come icona jolly che vi mostrerò successivamente in quanto viene utilizzata durante la fase in cui si va a risolvere una rissa ovviamente durante questa fase posso giocare una sola carta per turno quindi torniamo alla fase 1 in cui come vi avevo accennato quando andiamo a scegliere un dado possiamo svolgere una poi di queste due azioni la prima che vi ho mostrato era il radunare la seconda è il rifornimento quando io vado a scegliere un dado semplicemente lo scelgo di qualunque icona perché tanto non importerà in questo caso l'icona in quanto non andrò non la utilizzerò per posizionare il mio scagnozzo su una carta ma bensì come dice la parola l'andrò a utilizzare per rifornirmi rifornirmi cosa vuol dire andare a prendere o carte tattica o segnalini scagnozzo che però andrò a utilizzare come risorse ovviamente in seguito vi spiegherò cosa servono queste risorse quando io vado a eseguire l'azione rifornimento posso decidere di andare a prendere due carte due segnalini da utilizzare come risorse o una carta e un segnalino risorsa ovviamente devo dichiarare in anticipo quale opzione andrò a utilizzare perché non posso prendere una carta guardarle poi tipo prendere un'altra oppure passare a prendere un segnalino come risorsa dobbiamo ricordarci inoltre che il limite di carte in mano è 4 quindi nel caso in cui dovessi pescare più carte successivamente poi devo decidere quali scartare in maniera ad averne sempre un massimo di 4 in mano una volta che quindi tutti i giocatori hanno svolto i loro due turni hanno deciso se piazzare scagnozzi oppure se radunare quindi oppure rifornirsi si vanno a guardare le carte qui in alto per vedere se si passa alla fase 2 oppure semplicemente se si passa il segnalino primo giocatore l'altro giocatore si ritorna alla fase 1 questo perché perché la fase 2 si svolge solo se ci sono in questa zona carte luogo riempite quindi con tutte le icone con scagnozzi sopra oppure se ci sono carte rissa in questo caso c'è una carta rissa quindi si passa alla fase 2 in quanto bisogna risolverla immediatamente quando si trova una carta rissa si va a guardare l'icona che si trova qui in alto a sinistra come possiamo vedere in questo caso la bottiglia e ogni giocatore dovrà andare praticamente a vedere se ha uno dei dadi con quell'icona perché questa rissa la andrà a vincere chi avrà più icone di quel tipo tra dadi e carte che andrà a giocare quindi ogni giocatore andrà a prendere le sue carte le andrà a guardare e qui entra in gioco la carta che vi avevo accennato campione in questo caso come possiamo vedere qui in alto delle carte tattica ci sono le icone che andremo proprio a utilizzare nel caso di rissa qui la carta campione è un'icona jolly quindi io posso andarle a giocare per utilizzarla con questa icona cosa facciamo quindi allora i giocatori ambe due non hanno icone di dadi che hanno scelto con la bottiglia quindi potrebbero vincere la rissa solo giocando carte cosa si fa in questo caso si possono giocare quante carte si vuole si vanno a posizionare coperte di fronte a sé e si può anche bleffare si parte dal primo giocatore in questo caso era il rosso e quindi magari questo giocatore può anche giocare queste tre carte le posiziona coperte davanti a sé questa la togliamo un attimino stessa cosa fa l'altro giocatore quindi guarderà le sue quattro carte esempio ne una può decidere ovviamente vedendo se l'altro giocatore ne ha già giocate tre lui vede che non arriverebbe mai a tre può pensare che l'altro giocatore bleffa quindi giocare anche oppure ritirarsi nel caso in cui si ritira queste carte vengono scartate oppure nel caso in cui giocasse poi si rivelano le carte e si guarda chi ha più icone della carta rissa chi vince questa rissa ovviamente le carte giocate vengono scartate chi vince la rissa va a posizionare due suoi gettoni scagnozzo su questa carta nel caso in cui ci fosse un pareggio quindi lo stesso numero di icone tra carte ed eventualmente dadi si va a posizionare uno scagnozzo per ogni giocatore in pareggio se fosse stata una partita in più giocatori quindi in tre o quattro e ci fosse stato un pareggio si guarda in base all'ordine di turno quindi il primo giocatore e il giocatore successivo avrebbero posizionato i loro gettoni sopra alla carta rissa terminata quindi la fase 2 si passa alla fase 3 in cui andremo a posizionare i nostri scagnozzi nei quartieri della nostra mappa si parte sempre dal dal dove c'è l'ispettore quindi dal luogo in cui troviamo la tessera reclutamento con l'elmetto e poi si va da destra a sinistra in questo caso quindi come abbiamo detto c'è una carta rissa che ovviamente è stata riempita quindi in questo caso le altre non sono piene andremo solo a posizionare questi scagnozzi allora se fossero stati di un giocatore solo ovviamente li andava a posizionare lui per la carta rissa cosa succede il giocatore può andare a posizionare i suoi scagnozzi in qualunque luogo a sua scelta tranne che dove c'è l'ispettore in questo caso nel quartiere viola quello è il numero 4 quindi questo quartiere qui per cui lui può prendere tranquillamente i suoi due scagnozzi e piazzarli per dire tutte e due in questo luogo oppure uno e uno a sua scelta quando piazziamo scagnozzi in un singolo round in un solo quartiere li possiamo andare ovviamente li dobbiamo andare a impilare e se siamo il l'unico giocatore in quel quartiere oppure il giocatore con la pila più alta ci andiamo a posizionare nel zona nel quartiere del boss perché appunto diventiamo i boss del quartiere a questo punto se è stato un giocatore solo ad aver conquistato questa carta rissa la va a tenere in quanto gli darà un punto vittoria a fine partita nel caso in cui invece avessimo avuto due giocatori su questa carta rissa i giocatori si posizionavano nel quartiere che volevano dopodiché questa carta veniva semplicemente scartata quindi nessuno prendeva il punto a fine partita inoltre ogni volta che andiamo a posizionare uno più scagnozzi da una carta al luogo in un quartiere possiamo attivare uno di questi tre schemi che troviamo qui in basso inoltre ora non era il caso della rissa ma vi faccio un esempio in cui una carta al luogo è piena e quindi andiamo a posizionare anche facciamo l'esempio di questa carta anche gli scagnozzi da una carta al luogo questo come avviene quindi eravamo partiti dal come detto dall'ispettore si va a destra e poi si fa il giro in questo senso questa l'abbiamo risolta si fa il giro troviamo questa carta al luogo piena a questo punto partendo sempre a primo giocatore quindi il giocatore rosso deciderà dove piazzare questi due scagnozzi guardando le frecce che si trovano in questa carta quindi frecce in giù nel luogo nel quartiere giallo oppure nel quartiere verde ovviamente può anche piazzarne uno di qua e uno di là a sua scelta tutte e due in un quartiere se nello stesso round come detto e prende questi due qui li posiziona nel quartiere giallo a questo punto li può impilare tranquillamente quindi diventare il boss del quartiere da quattro questo è importante avere una pila alta perché può essere tolto solo e quindi non essere più il boss di quartiere se un altro giocatore forma una pila più alta attenzione perché si vanno a impilare solo i gettoni del round in corso quindi successivamente nei round successivi quando io andrò a posizionare scagnozzi in questo quartiere non li andrò a impilare in gettoni scagnozzo che ho già posizionato nei round precedenti quando dunque io vado a posizionare da carte luogo i miei scagnozzi posso pagando risorse qui entra in gioco il fattore risorse quindi del rifornimento perché è importante che io abbia queste risorse posso pagare in base alla tessera reclutamento che trovo qui in basso in questo caso una corona io posso andarla quindi a scartare qui dalle mie risorse per far diventare un mio scagnozzo due quindi in questo caso io avevo questi due se voglio pagare una corona uno scagnozzo mi diventa doppio quindi in questo caso ne vado a posizionare tre perché due li avevo lì e uno di bonus se avessi avuto altre risorse posso anche pagare doppio triplo e così via per aggiungere ulteriori scagnozzi questo è importantissimo per riuscire a togliere magari un giocatore avversario che ha formato una pila alta come boss del quartiere e durante questa fase come vi ho detto ogni volta che vado a posizionare uno scagnozzo in un quartiere posso attivare uno di questi tre schemi anche qui pagando risorse posso andare appunto a svolgere uno di questi piani devo ovviamente avere a disposizione le risorse quindi vediamo per esempio il primo schema ovviamente ne posso attivare solo uno per scagnozzo che vado a posizionare questo schema pagando una risorsa corona posso muovere un mio scagnozzo da un quartiere all'altro quindi io pago questa per esempio se avevo ora facciamo esempi così posso tranquillamente spostare un mio scagnozzo da un quartiere all'altro sempre se è nel turno in corso quindi se io questi scagnozzi li avevo posizionati nel round corrente allora li posso impilare ricordiamoci sempre che questo che è importante se invece questo l'avevo posizionato in un round precedente e questo in questo round se vado ad attivare questo schema non posso andarlo impilare sopra ma semplicemente lo devo mettere di fianco questo comunque è importante perché andremo a prendere punti a fine partita in base come ho mostrato nel setup in base a queste tesserine qui quindi essere il boss del quartiere è importante perché ci va a dare ulteriori punti bonus a fine partita come vi mostrerò ma comunque avere il numero maggiore di scagnozzi quindi anche non impilati a formare il boss del quartiere oppure un tot numero di scagnozzi in un quartiere mi va a dare ovviamente punti come dicono le tessere punteggio troviamo poi questo altro schema qui corrompere in cui pagando con questa risorsa qui del denaro posso decidere tra due opzioni o andarmi a posizionare dove c'è nel luogo dove c'è l'ispettore quindi come vi avevo detto in questo luogo non ci si può posizionare ma attivando questo schema mi posso anche posizionare in questo caso nel luogo viola nel 4 oppure posso scegliere l'altra opzione che è quella di spostare un poliziotto in un altro luogo come vi avevo mostrato quando riempiamo una di queste carte luogo contesa quindi con un poliziotto quando l'andiamo a risolvere nella terza fase come vi ho mostrato quindi i giocatori si andranno a posizionare nei vari quartieri in base alle alle frecce in automatico poi questo poliziotto si va sempre a posizionare nella freccia in giù quindi nel quartiere che si trova sotto si andrà a posizionare quindi in questo caso nel quartiere verde con questo schema attivando l'opzione b io posso spostarlo in un altro luogo questo perché perché ogni poliziotto che si trova in un quartiere a fine partita andrà a togliere un uno scagnozzo per ogni giocatore tranne che il boss del quartiere quindi questa pila non verrà toccata dai poliziotti l'ultimo schema è questo qui in cui blast in cui andrò a pagare una risorsa bomba per rimuovere un gettone scagnozzo di ogni rivale da tutti i quartieri in cui sono anch'io presente quindi in questo caso se io sono il giocatore rosso vado a togliere per esempio è solo presente qui il verde gli vado a togliere il suo scagnozzo fosse stato presente in altri quartieri dove ci sono presenti anch'io gli andavo a togliere ovviamente quello in questo caso posso anche andare a togliere il gettone che si trova sulla cima del boss del quartiere dunque queste che vi ho mostrato sono tutte le azioni e le fasi di gioco che si possono svolgere durante la partita infatti poi la fase 4 sarà semplicemente una fase in cui andremo a resettare il tabellone e ve la vado ovviamente a mostrare subito allora cosa si fa in questa fase si vanno innanzitutto a togliere le carte che abbiamo riempito e quindi giocato nell'esempio ora avevo fatto vedere avevo riempito anche questa per mostrarvi qui c'era la carta rissa che abbiamo scartato quindi anche questa carta viene scartata vengono scartate anche le tessere reclutamento che si trovavano al di sotto di quelle carte luogo vengono posizionate a lato e si mettono nuove carte stessa cosa per quanto riguarda le tessere reclutamento vengono messe nuove tessere reclutamento e si va poi a girare una nuova carta tattica che viene scartata per vedere in quale luogo sarà il l'ispettore quindi in questo caso nel luogo 3 se non fosse stata scartata la carta in cui c'era l'ispettore del turno precedente il si girava comunque una nuova carta veniva posizionato un nuovo ispettore se era in un nuovo quartiere e veniva girato da questo lato qui l'ispettore vecchio nel caso in cui la pila di tessere reclutamento dovesse terminare si vanno a rimescolare quindi nuovamente poi a posizionare dalla nuova pila appena formata mentre invece se dovesse terminare il mazzo di carte luogo scatta alla fine della partita nel caso in cui per andare a ripristinare gli spazi vuoti non dovessero bastare le carte luogo si vanno a prendere giusto solo per riempire per l'ultimo round le carte dal mazzo che avevamo messo da parte e ovviamente come ultima parte della fase 4 viene dato il segnalino primo giocatore al giocatore successivo in senso orario al termine della partita che vi ho mostrato come avviene passiamo al conteggio dei punti finali ogni giocatore ottiene punti in base alle tessere punteggio posizionati in ogni quartiere vi faccio qualche esempio qui otteniamo due punti ogni tre gettoni scagnozzo che abbiamo all'interno di quel quartiere questa per esempio vi faccio giusto questi due esempi otteniamo quattro punti se abbiamo sette o più scagnozze all'interno di questo quartiere due punti se ne abbiamo da quattro sei un punto se ne abbiamo da uno a tre e così via quindi si vanno a calcolare tutte le tessere punteggio dei cinque quartieri ogni giocatore poi ottiene due punti se ha il numero maggiore di scagnozzi all'interno del quartiere suo di origine quindi ovviamente quello dato dalla plancia giocatore si ottiene poi un punto ulteriore ogni quartiere in cui siamo i boss del quartiere otteniamo poi un punto per ogni carta rissa raccolta come vi avevo mostrato quindi che siamo riusciti a conquistare a tenere e come ultimi punti come mostrato qui nella nostra plancia otteniamo punti per le risorse e le carte che abbiamo avanzato a fine partita se abbiamo nel totale sia tra risorse carte 6 o più otteniamo due punti se abbiamo da 3 o 5 tra risorse e carte otteniamo un punto ovviamente il giocatore con il maggior numero di punti è il vincitore termina qui il tutorial di five words io spero come dico sempre di avervi aiutato a conoscere questo gioco per chi ancora non lo conoscesse e a capire le regole di gioco vi ringrazio di cuore per aver guardato questo mio video e auguro a tutti buon gioco